Sono passati 578 giorni dal mio intervento e adesso sarei pronto a mandare tutto a rotoli. Sono stato obeso per 20 anni. Un anno, 7 mesi e una settimana fa sono stato sottoposto ad un intervento di Sleet Gastrectomy che è della famiglia della chirurgia bariatrica. Da allora ho deciso di fare questi video per poter diffondere informazioni che sono difficili da trovare. Se volete sostenere questo mio progetto iscrivetevi al canale e condividete il più possibile questi video. Dicevo che adesso potrei mandare a rotoli tutto l'esito del mio intervento e del mio percorso perché adesso potrei mangiare praticamente quello che voglio, bere praticamente quello che voglio gasato, non gasato, dolce, non dolce, alcolico, senza problemi. Potrei saltare gli spuntini con poche conseguenze. Insomma potrei tranquillamente recadere nelle vecchie abitudini. Un esempio pratico? Sono stato qualche giorno in giro, in vacanza, qualche giretto, qualche gita e fondamentalmente non ho assolutamente avuto la necessità di organizzare tutto quello che ruotava intorno ai miei pasti. Ho potuto mangiare quello che capitava, quando capitava, come capitava. È stato un problema? Assolutamente no. Ma diventa un problema. Diventa un problema nel momento in cui questa possibilità di fare le cose in modo più sportivo mi spinge in un certo senso a non occuparmi e preoccuparmi più nel modo sano di cosa mangio, di come mangio e di quando mangio. Quindi vuol dire che ho il superpotere di poter affrontare degli imprevisti o di gestire in modo molto semplice delle situazioni, come dire, improvvisate. Ed è fantastico. Ma è rischioso perché mi riporta a quello che inizialmente mi ha portato ad essere obeso. Cioè, fra le tante sfaccettature, una importante era il fatto di non considerare più le necessità dei pasti come qualcosa su cui doversi effettivamente ragionare. Prima dell'inizio del percorso che sto facendo intorno all'intervento di chirurgia bariatrica, non mi sono mai preoccupato di cosa mangiavo o di come mangiavo. Mangiavo, punto. Era più che sufficiente per quello che era al tempo la mia concezione del cibo. Adesso invece ho capito che ho una cosa molto più importante. È un po' come decidere di fare le valigie per le vacanze. È inutile. Puoi essere veloce, svelto, puoi essere abile quanto vuoi a fare le valigie, ma c'è un momento in cui ti devi fermare e devi ragionare dicendo vado al mare, devo prendere il costume, sto via tutti i giorni, devo considerare di portare questo, 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 devi fare la lista e devi organizzarti. Perché sennò quando sei in vacanza ti manca qualcosa, hai roba di troppo, non ti ci sta tutto in valigia, è un pasticcio. Quindi ci devi mettere un attimino di testa. Ecco, è una cosa simile. Se quando sono a casa la routine del mangiare ormai è bella impostata, quindi tendenzialmente faccio la spesa, prendo le cose giuste, cucino le cose giuste, mangio le dosi giuste, va tutto bene. Quando sono in giro non è così. Quando sono in giro, soprattutto adesso che non ho effetti collaterali, non ho problemi, quello che capita, capita. Quello che mi è successo in questi ultimi giretti che abbiamo fatto io e la Francia. Ok, non va bene. Bisogna pensarci esattamente come pensi a preparare una valigia. Devi pensare che durante un giro in moto devi fermarti a mangiare, durante un giro in moto devi fermarti a fare una merenda, non hai bisogno di, lo devi fare, anche se non ne hai bisogno. Questo per mantenere la routine. Perché se capita un giorno che fai una cosa fuori dagli schemi non succede niente, due giorni non succede niente, ma devo ammettere che in questo mese di agosto, visto che gli strappi e le regole ce n'era uno ogni giorno, perché una volta succedeva una cosa, una volta succedeva l'altra, una volta quell'altra, e io ho utilizzato, come facevo prima, la mia possibilità di gestire i pasti in modo sportivo, diciamola così, per far fronte alla fretta, alla necessità, all'improvvisazione, tutte queste cose. Non va bene, non va bene perché smonto quello che ho fatto, perché sballo le abitudini e quindi devo starci veramente attento. La cosa fondamentale è che adesso mi rendo conto di queste cose, ci ragiono sopra e le posso gestire, perché le governo io, sono io a occuparmene, sono io a gestirle. Tanti di voi magari storceranno il naso all'idea di regole. Perché abbiamo bisogno di regole? Ne abbiamo bisogno perché se siamo arrivati dove siamo arrivati con la nostra obesità grave, abbiamo già dimostrato a noi stessi che non siamo forti nel gestire queste cose. E se questo è il nostro punto debole, abbiamo bisogno di strumenti per far fronte a queste nostre necessità che ci aiutino a gestirle nel modo più sano. E quindi regole. Ci si mette lì e si ragiona. Su cosa mangiare, quando mangiare, dove mangiare, come mangiare. Si può fare tranquillamente. La gestione del cibo è il nostro punto debole. Lo è stato per tantissimi anni. Non c'è niente di cui vergognarsi. Bisogna prenderne atto e di conseguenza agire e reagire. Tutti noi sappiamo che abbiamo dei punti di forza e dei punti deboli. E tutti noi cerchiamo di dare il nostro meglio tenendo presente dove siamo forti e dove siamo deboli. Più semplice di così. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo. Lasciatemi anche i vostri commenti o le vostre domande. Prima o poi rispondo sempre a tutti. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.